Preoccupazioni doppie, da un lato quella per sua figlia, dall'altro quello per la madre. E' la storia di Marco, nostro concittadino, che vive in Toscana. Di mia figlia, che è dovuta rimanere in isolamento a causa di un contatto con una maestra, che purtroppo due giorni fa è venuta a mancare. L'isolamento è terminato, non ci sono state manifestazioni di alcun tipo, quindi tutto si è risolto per il meglio, questo ci lascia ben sperare per il futuro. Ma la situazione riguarda anche la mamma, che da un po' di anni si è trasferita e vive a Brescia, zona focolaio, barricata in casa a causa dell'emergenza e lontano dagli aiuti di cui ha bisogno. Un'altra situazione che mi tiene un po' col fatto in sospeso è su a Brescia, dove ho mia mamma che è chiusa in casa da un bel pezzo. E mi auguro anche lì che la situazione davvero si evolva per il meglio. L'amministrazione Bresciana si sta muovendo veramente molto bene, ho avuto addirittura la possibilità di contattare o di essere contattato addirittura dall'assessore a riguardo delle iniziative per quanto riguarda la spesa portata a casa, dato che chiaramente mamma non ha possibilità di muoversi, ma non che non abbia la possibilità, ovviamente mantiene l'impegno che ci stiamo assumendo tutti di restare in casa.